è tutto con questa foto su instagram le spice girl hanno annunciato la loro reunion sono tutte cinque sono tornati tutte insieme finalmente c'è posh c'è ginger c'è baby milf c milf b sono tutte quante sono è la più giovane direttore d'orchestra d'italia inserita dal corriere della sera tra le cinquanta donne più importanti del 2017 è con noi beatrice venezzi devo dire che prima di presentarti ho chiesto esplicitamente informazioni su come avrei dovuto chiamarti mi hanno detto la più giovane direttore d'orchestra giusto perché è così non c'è maestro maestra direttore direttrice ma sai io credo che si debba come dire andare a ragionare su quello che è il merito della professione quindi sulla professione stessa sul ruolo il ruolo è quello del direttore o quello del maestro se abbiamo ancora l'idea oggi che dobbiamo per forza declinare al femminile anche lavori vuol dire che stiamo andando come dire a ghettizzare ulteriormente le donne no perché sono super d'accordo con questa teoria si stanno riunendo le spice girls sono felicissima vero non puoi dirlo a me non dirlo a me e quindi mi piacerebbe provare insieme a te a fare una versione orchestrale di wannabe delle spice girls dai facciamo ci stai? perché io voglio prendere una versione e vorrei Grazie a tutti. Grazie mille a Beatrice Venezzi, grazie alle Spice Girls, noi abbiamo finito, ci vediamo domani, buonanotte a tutti, buonanotte!